Ma chi ha bisogno di Canon EOS R5? Tanto al giorno d'oggi le macchine fotografiche sono tutte uguali. E invece no. E infatti oggi sono qui a fare un video per farvi vedere alcune delle immagini che ho realizzato con questa camera. Faccio una premessa doverosa. Questa è una fotocamera con 46 megapixel, al contrario della sorella minore Canon EOS R6 che ne ha solamente 20. Eppure, come ce lo vogliamo spiegare? Che questa fotocamera ha una gamma dinamica superiore rispetto alla sorella minore R6. Dico questo semplicemente per sfatare un mito. Smettiamola di pensare che tanti megapixel equivalgano automaticamente a una qualità di immagine inferiore. Non è assolutamente così. La tecnologia è andata avanti e una fotocamera di fascia superiore può incorporare un numero maggiore di megapixel senza necessariamente sacrificare la gamma dinamica. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi parleremo delle fotografie che escono dal corpo macchina di casa Canon R5. Nel caso fosse la prima volta che capitate sul mio canale io vi invito a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perderete aggiornamenti su cosi su fotocamere e videocamere come questa e anche su tutto quello che orbita intorno al mondo della fotografia, del videomaking e del design. Andiamo a incominciare e parliamo del file d'uscita che fuoriesce da questa meravigliosa fotocamera. Nel momento in cui io vado a dotarmi di questa fotocamera la sto prendendo a noleggio semplicemente perché un cliente mi ha richiesto delle cose che con le fotocamere in mio possesso non riesco a fare, non riesco a fare agevolmente quantomeno. Per cui vado a dotarmi di una fotocamera di fascia superiore per poter offrire al mio cliente esattamente quello che ha chiesto e gli faccio figurare dentro nel preventivo il costo di noleggio della strumentazione supplementare che ho dovuto noleggiare per fargli il lavoro. Quindi questa non è una fotocamera che io ho acquistato, è una fotocamera che per le mie tasche è un po' costosa. Tuttavia esiste qualcosa nei file d'uscita che mi sono ritrovato a maneggiare una volta tornato a casa che mi ha fatto capire come mai questa fotocamera costa così tanto. Al di là delle prestazioni in ambito video, perché comunque in ambito video questa fotocamera è stellare, girare in 8K RAW è una cosa veramente da fuori di testa, è una cosa che non mi sogno nemmeno di fare perché le mie macchine, i miei computer non lo reggono un file di questo tipo. Cioè io non ho l'hardware per gestire questa molle di dati. Ciò non di meno non posso fare a meno di pensare, certo che costa tanto, offre questo tipo di qualità. Questo tipo di qualità a me non serve e io non ne usufruirei. E quindi questa fotocamera non va bene per le mie esigenze, non va bene per le mie tasche, perché costa troppo. Offre troppo, ma costa anche troppo per le mie tasche, quindi a me non conviene una fotocamera o videocamera di questo tipo. Andrei piuttosto sulla sorella minore R6, che ha meno megapixel e questa cosa a me non fa impazzire, e ha anche una gamma dinamica lievissimamente più risicata. E proprio qui casca l'asino, perché con questa fotocamera io mi sono ritrovato con delle immagini che hanno una profondità di colori, una ricchezza di toni e i file d'uscita mi hanno permesso un recupero delle alte luci e delle ombre che mi ha lasciato semplicemente senza parole. Vado a farvi vedere due immagini, vi faccio vedere il JPEG come è stato scattato dalla fotocamera e poi il RAW post-prodotto. Quindi con delle modifiche semplicissime, ho semplicemente fatto un normalissimo recupero delle alte luci, un normalissimo recupero delle ombre, quindi delle modifiche banalissime. Ho applicato il mio preset di Lightroom Sharpening 5D, che vi lascio nel link in descrizione sul mio sito nella pagina di download. È gratuito, quindi andate a provarlo. Se avete una fotocamera di questa fascia, con questo numero di megapixel all'incirca, questo preset potrebbe andare bene. Ed è un preset che serve appunto a dare un po' di nitidezza in più, perché io trovo che i file RAW dei sensori full frame Canon siano un po' morbidi. È una caratteristica che a qualcuno può piacere, io sono fan delle immagini molto nitide invece, e quindi ho creato questo preset per avere un'immagine sempre molto nitida, anche quando mi trovo a lavorare con sensori full frame di casa Canon. Per cui vi dicevo, nei RAW che vi faccio vedere, nei JPEG strappolati dai RAW che vi sto facendo vedere, io sono andato semplicemente ad applicare il mio preset per la nitidezza, quindi ho migliorato, a mio modo di vedere, la nitidezza di questi file. Dopodiché ho fatto il recupero delle alte luci e delle ombre, quindi abbiamo una fotografia che mi restituisce esattamente quello che io vedevo con i miei occhi. Ora tenete conto che per me questo è un bel passo avanti, perché io sono abituato a tornare a casa con dei file che più o meno rappresentano quello che io vedevo con i miei occhi, però io sono abituato a dover scattare in bracketing per farlo. Cioè io normalmente scatto in bracketing, faccio tre foto e me ne torno a casa, faccio l'HDR e a quel punto riesco ad avere questa distribuzione di toni, di alte luci, di mezzi toni e di ombre. Altrimenti con un singolo scatto difficilmente riesco ad arrivare a questo livello. Con questa fotocamera ci sono riuscito con un singolo scatto e questa cosa mi ha lasciato veramente a bocca aperta, perché questo significa che forse, dico forse, nel futuro, il me stesso del futuro, dotandosi di una fotocamera di questo tipo, potrà smetterla di fare il bracketing sempre in qualunque contesto, potrà smetterla di tornare a casa sempre con gli scatti tripli, ma potrà fare una singola foto e gestendo il RAW in sviluppo digitale, quindi all'interno di Camera RAW o di Lightroom, potrà semplicemente recuperare quello che i suoi occhi vedevano e che la fotocamera sembra avere perso. In realtà le informazioni ci sono, perché se riesco a recuperarle significa che le informazioni ci sono qui dentro. Questa è una cosa che mi fa veramente cascare la mandibola e mi fa dire, cavolo, se ce li avessi quei soldi, una fotocamera come questa la vorrei, sicuramente la vorrei. Il fatto che i megapixel siano tanti, sono 46, sono un po' troppi effettivamente, una cosa che vi posso dire è che il file è super mega gigante e iperdefinito, quindi lo possiamo ingrandire tantissimo e andiamo sempre a mantenere un'ottima risoluzione. Questa è una cosa che a me piace, perché a me piace comunque avere l'immagine molto definita, molto risoluta, questa è una cosa che mi piace, però vi devo dire che i file che escono da questa fotocamera hanno questo difetto, pesano troppo, sono delle immagini veramente pesantissime, quindi io vi tesso le lodi di questa fotocamera, perché mi piace veramente tanto, ergonomia fantastica, senza uguali, mai sentita una cosa del genere? Oddio, con 5D Mark IV ancora mi trovo meglio, perché è un po' più grossa e mi sta meglio in mano rispetto a questa, quindi ancora come esperienza d'uso preferisco le vecchie reflex. Però devo dire che questa qui non lascia troppo a desiderare, siamo lì, non è troppo distante, quindi non sono per niente scontento dell'ergonomia di questa camera, anzi mi piace molto. Infatti sto valutando in un futuro di dotarmi di una R6 tutt'al più o di una R6 Mark II, visto che è stata annunciata, quindi sono più su quella falsariga lì, costa un po' di meno, costa la metà praticamente, quindi è più per le mie tasche, mi darebbe qualcosina in più, non tantissimo, ma sono più orientato su un acquisto di quel tipo piuttosto che di questo. Tuttavia devo dire che trovandomi sulla R6 con 20 megapixel mi mancherebbe questa risoluzione, perché su questa veramente io posso ingrandire la mia foto, fare dei crop, fare dei ritagli, estrapolare un particolare o anche semplicemente stamparmela gigante o guardarmela gigante su un monitor e posso vederle con una risoluzione altissima. Ed è una cosa che a me piace molto, venendo dalla stampa comunque io ho sempre apprezzato il dettaglio molto grande. Questa è una fotocamera che da quel punto di vista regala delle immagini che sono veramente, veramente magiche. Ripeto, costa troppo per le mie tasche e credo per le tasche pressoché di chiunque, però vi segnalo questa estrema versatilità del file d'uscita perché abbiamo a che fare con un file RAW che possiamo non maltrattare, lo possiamo bombardare, lo possiamo distruggere e ancora ha dei colori meravigliosi e un'ottima gamma dinamica. Qui stiamo parlando di una gamma dinamica che è tantissimo, 14 stop di gamma dinamica è veramente, veramente tanto, soprattutto per una fotocamera da 46 megapixel, quindi è tantissimo. Io ho adorato questa fotocamera, arriva purtroppo il momento di restituirla e quindi non posso fare altro che separarmene, guardando avanti, guardando a una futura R6 probabilmente Mark II perché ha delle migliorie che mi interessano molto, tra cui 24 megapixel invece di 20. Con 20 megapixel io faccio fatica a lavorare, ne voglio almeno 24, quindi quella è una cosa a cui guardo con grandissimo interesse. Tuttavia una cosa che mi mancherà di questa fotocamera che non credo acquisterò, sicuramente la risoluzione e la gamma dinamica che non credo ritroverò neanche su R6 Mark II. E per cui con una lacrimuccia che io e Canon EOS R5 vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.